E Bitcoin inizia la nuova settimana facendo nuovi massimi di periodo, un po' inattesi o qualche giorno di riflessione in più, me lo aspettavo invece niente di tutto ciò, dal minimo del 23 febbraio si è chiuso un ciclo, adesso vedremo cosa in questo video, ed è partito un nuovo ciclo che sta facendo nuovi massimi, quanto dura, dove non dura, dove siamo diretti un po', negli scorsi video abbiamo parlato di alcune possibilità, questo pre-halving è diverso dalla solita, la possibilità di raggiungere alcuni livelli di pricing con una probabilità precisa, abbiamo fatto una live strafica importantissime ragazzi, chi non ha visto quella live, potete vedere quella live è troppo bella, però insomma i giochi si fanno un po' duri secondo me anche per il mese di marzo che statisticamente non è di solito favorevole ai mercati del cripto, bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, lancio della moneta che la settimana scorsa è indicato giusto, oggi di nuovo continuo a dire si sale, si sale, si sale, ho deciso che vi dico il risultato del lancio della moneta così potete fare anche voi la statistica a casa, vabbè, allora detto questo c'è anche un altro grafico importantissimo che stiamo valutando veramente da un sacco di tempo, Ethereum contro Bitcoin, che ha fatto dei numeri, ha fatto dei numeri perché dalla scorso lunedì 12, 17% di forza relativa su Bitcoin circa, adesso sta uscendo da questa fase di limbo in cui si è riempirato quasi due anni fa, sì, no, dove siamo, dove non siamo ancora, manca un ultimo pezzettino, innanzi, guardate un po' lì, si è diciamo accostato al suo livello, ultimo livello di resistenza, però già qualcosa la sta indicando la probabilità che qui sia iniziato in effetti un nuovo ciclo annuale veramente importante per il rapporto cambio Ethereum-Bitcoin perché sarebbe il primo click di cambiamento per quello che riguarda una possibile alt-season, non l'inizio, ma un primo click, cioè una cosa che mette in moto tutto quel meccanismo che poi probabilmente potrebbe essere sviluppato ancora un po' troppo presto, abbiamo marzo davanti che è un mese delicato, eccetera, detto questo, non so se ho detto bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, lo dico e vi faccio vedere quella che è la più grande news di tutti i tempi dell'anno, scherzo ragazzi, per cosa, per mezzo, eccetera, Academy riaperta per sole 6 ore, le ultime 6 ore ragazzi, poi chiudiamo le iscrizioni come ogni anno, manca pochissimo veramente, non vi fate scappare questa super super promo, anche perché i prezzi poi saliranno a 3,47 trimestrale, quindi è importante per chi vuole, ha deciso magari di partecipare a questa community per gestire questa fase di bullrun, questa fase di hype, di Bitcoin e delle altcoin che già un po' si vede, ma secondo me avremo davanti mesi un po' più stellari dopo che Ethereum farà il suo, insomma ragazzi, lì ci sarà un bel da fare in quest'anno, quindi mi raccomando, non vi fate suggerire l'occasione, entrate solo se siete formati e sapete cosa state facendo, se non avete formazione, iniziate dal corso, è importante questa cosa, Academy operativa, Trin System, analisti, lì operiamo, ho pubblicato proprio le mie operazioni oggi, su questa impennata, e insomma sembra che siamo riusciti ad entrare decentemente, insomma su questo rialzo, eravamo usciti la scorsa settimana, non sono molto contento di alcune cosette che si possono migliorare, fino a quando si guadagna fa tutto bene, però io che conosco alcuni sistemi particolari, presto molta attenzione anche se guadagniamo a delle cose che non sono come vorrei, perché io sono un perfezionista, vabbè ma ci sta, tipo questa cosa qui. Allora, Academy ragazzi, opening, mi raccomando, ultimo avviso, sei ore e poi si chiude, non perdete questa occasione. Iniziamo dalla questione Bitcoin, che cosa sta facendo questo rialzo di oggi, dovrà essere confermato ovviamente almeno in close della giornata, sopra i 52.004 in prima istanza e poi successivamente sopra i 53.100 circa, che erano i massimi più o meno 53.000 dollari su prezzi Bitstamp del 20 di febbraio. Allora, la questione è molto semplice, ciclo mensile iniziato il 23 di febbraio è chiuso, 31 giorni sì o no? Questa cosa è un po' prematuro per dirla, però sembrerebbe di sì perché in realtà si è andato a creare, in pratica, a livello di sottocicli, ve lo faccio vedere sul daily, anche se sono più indicati dei time frame inferiori, si è andato a creare un 6 giorni ribassista teoricamente qui. È proprio laterale ribassista, se devi dire, però c'è ed è un ciclo fatto, costruito in questo modo. È un 6 giorni, di solito cicli di questo tipo sono almeno 8 giorni, anche 10 a volte. Un ciclo da 6 giorni è un settimanale ribassista, va bene per chiudere il ciclo mensile, è un po' troppo corto e questo la dice lunga su due cose. O il mercato è molto forte e questa pressione di acquisto, anche degli ETF eccetera, mira a spingere molto su il pezzo di Bitcoin, oppure in pratica questo ciclo non è così preciso, cioè potrebbe essere stato fatto una struttura anomala per poi andare a chiudere tutta la struttura ciclica in pratica fra circa 14 giorni, più o meno, 13-14 giorni. In sostanza è come se allungassimo a 45 giorni, non è la prima volta che lo fa e questo inizio qui in pratica è un movimento come è stato questo qui, giusto per intenderci, e quindi sta facendo una cosa del genere. E sarebbe un giochino non da poco perché è un fake breakout da manuale che potrebbe creare proprio in questa fase e quindi aver fatto questa hype per poi chiudere una struttura. Il mercato è diventato più difficile, io me lo aspettavo e dallo scorso anno verso la fine dell'anno, verso ottobre, novembre, che si era andato a complicare un po' il tutto, me lo aspettavo perché? Perché l'avvento degli investitori istituzionali in un mercato di nicchia, poco capitalizzato, liquido bitcoin sì, le cripto no, dove però non ci sono molti istituzionali ma pochi istituzionali c'erano, era inefficiente quest'avvento degli investitori istituzionali che stanno entrando a mani bassa, ormai lo possiamo dire perché i flussi di investimento continuano a entrare in maniera importante, anzi vi faccio vedere l'aggiornamento, eccoli qui in pratica i flussi costanti di ingresso, questo è in dollari, comunque sono i flussi costanti di bitcoin che entrano nel mercato, insomma in linea di massima abbiamo questi flussi abbastanza importanti, questo è il significato anche dell'avvento degli investitori istituzionali all'interno di questo mercato che modifica un po' le cose e le carte in tavola, allora le analisi soprattutto la tecnica un po' più della ciclica incominciano a modificare alcune cosette, l'analisi ciclica è diventata più complessa in generale nella sua struttura, questo me lo aspettavo, d'altronde tutti i mercati sono in questo modo quando diventano più efficienti le analisi di questo tipo diventano più difficili da fare, io non credo che siamo arrivati ancora al capolinio per quanto riguarda questo tipo di modus operandi perché i mercati delle cripto sono ancora estremamente volatili e quindi non c'è altro modo di operare, se non questo non si può fare un holding alla cieca, sui mercati delle cripto è una follia perché si assume un rischio spaventoso, perciò l'unico modo ancora oggi di operare in maniera professionale e corretta è senza dubbio questo, poi vabbè ci sono anche i modi insomma del holding alla cieca ma quello diciamo è un po' un gambling spropositato, poi per chi come me magari c'ha fede in questa cosa il discorso, però capite bene che non posso dire una cosa del genere, sarebbe una follia, da un punto di vista di investitore è sbagliato ragionare in quel modo, quindi è giusto dire cose come stanno al di là dell'essere simpatizzanti per un mondo, non si può fare questa cosa in quel modo, però in linea di massima bisogna tenerne conto di questi cambiamenti, quindi è una cosa che faremo, ancora è troppo presto per maturare nuovi change, però è una cosa che andrebbe valutata. Allora, detto questo, analisi ciclica mensile chiuso il 23 di febbraio, sì o no? Io sono ancora di queste due view che vi ho appena accennato e sarebbe il mensile chiuso qui, oppure sta facendo una struttura a ternaria costruita in questo modo che deve chiudere così, andando a segnare poi un 45 giorni che sarebbe in pratica una specie di metà trimestrale e poi indicando l'ultima fase finale per andare a chiudere poi quella che è il trimestrale a marzo. Se fosse in effetti così, il trimestrale in questione probabilmente sarebbe più complicato nella sua seconda parte, diciamo nella parte più avanti e sancirebbe il concetto che è marzo diventerebbe un mese complicato. C'è da dire che però anche in base alle statistiche che abbiamo analizzato nella live che vi dicevo all'inizio del video, la possibilità di Bitcoin per quest'anno di andare addirittura a testare i nuovi massimi o vicino ai massimi storici intorno ai 64-65 mila dollari, pre-albing c'è ancora per una buona parte e quindi se deve fare quella cosa lì la farà ora ragazzi, questo è il discorso. Quindi non vedremo cincischiare il mercato, vedremo breakout confermati, non vedremo punti di ingresso semplificati, andremo direttamente a 56 mila dollari prima e poi 62 con velocità, già entro secondo me il 15 massimo 20 di marzo. Quindi se vuole fare una cosa del genere farà una specie di piccola burrana in un mesetto bruciando tante cose, tanti di che si aspettano magari eventuali fasi di bassista eccetera. altrimenti io credo che non riusciremo ad andare ad aggiornare i massimi pre-albing e il mercato sposerà più la view di un marzo negativo o comunque laterale ribassista. Non lo vedo disastroso, ecco questo qui, però magari punterei insomma un po' più l'attenzione. Questa settimana è una settimana clube, lo dicevo anche venerdì e già lo sta mostrando, a me non piace quando iniziamo la settimana sparati a palla perché di solito poi riassorbe alla fine della settimana. Mi piace di più vedere movimenti ribassisti lunedì e martedì per poi avere ricoperture e esplosioni al weekend e in realtà insomma prediligo quel tipo di movimento del mercato perché secondo me è più rialzista. In ogni caso questa è la struttura e queste sono le due fasi cicliche. Andiamo a vedere invece quello che riguarda Ethereum perché intanto vi faccio vedere il grafico di ETH e poi valutiamo ETH a BTC. Oggi vediamo anche Nasdaq ragazzi, vediamo anche Nasdaq che c'è una peculiarità che volevo farvi vedere. Allora Ethereum è fortissimo, questo rialzo pulito e semplificato veramente molto molto bello. Ancora qui per esempio su ETH il minimo in questione che sarebbe addirittura 27 giorni mi sembra leggermente prematuro anche se volessi andare un po' più avanti avremmo 29 giorni è un po' troppo presto. Allora il discorso è che ci può stare perché se il mercato è straforte è ovvio che poi insomma lascia spazio ai rialzi e il mercato fa un po' quello che gli pare. Se è forte è forte. Però da un punto di vista logico anche qui mi sembra molto puntare il dito verso la fine della settimana prossima, cioè circa fra 10-14 giorni. Sembra che questo ciclo sia anche impostato su ETH proprio a forma ternaria costruito in questo modo. A me dà un po' questa impressione, lo tengo sotto osservazione questa cosa, non vi nascondo che comunque io oggi le operazioni long quelle che sono entrate le ho comunque seguite ho un po' il dubbio soprattutto su quelle non a breve, quelle a breve magari in un contesto del genere saranno profittevoli però quelle un po' più lunghette che dovrebbero durare uno o due mesi ho un po' paura che possono andare in stop perché se diciamo sia Ethereum che Bitcoin fa questa strutturazione a tre poi insomma ce li manda in stop. Amen, ci può fare ben poco in un contesto del genere se non assolutamente niente. Il trend è long e quindi bisogna andare trend following in queste situazioni e seguirlo anche se i segnali non sono brutissimi come in questo contesto. però vedremo anche magari può essere che saliamo così tanto che poi anche un'eventuale fase di chiusura non mi tangerà diciamo no, prenderà gli stop roba del genere. Vedremo, vedremo con calma questo tipo di discorso. Allora, altra cosa importantissima questo grafico Ethereum Bitcoin. Ethereum Bitcoin è arrivato al punto in particolare più irrilevante, il suo livello di resistenza. Questa zona qui, se è breccato abbiamo un'inversione di trend dopo quasi due anni di questo grafico se è breccato e sale qui sopra abbiamo due minimi crescenti, due massimi crescenti. Quindi un'inversione di trend statistica che presuppone una questione. La possibilità che intanto sul minimo del questo è il minimo dell'8 di gennaio si è iniziato un nuovo ciclo trimestrale Ethereum Contro Bitcoin. Il ciclo trimestrale però presuppone che questo ciclo sia anche poi un annuale. Qualora questo trimestrale venga diventi un trimestrale rialzista. Cioè vado a chiudere in pratica con una struttura creata magari in questo modo con un minimo inferiore a questo minimo. In pratica se stiamo al di sopra di questo minimo per un 80-90 giorni da gennaio qui abbiamo iniziato il nuovo ciclo annuale Contro Bitcoin. E questo è stra stra importante perché? Perché noi stavamo attendendo questo ciclo perché qui abbiamo una struttura quadriennale che si è andata a sviluppare a forma ternaria e soprattutto l'inizio di un nuovo quadriennale sancisce una nuova fase importante di possibile bull di Ethereum contro Bitcoin e quindi di possibile fase che poi può durare appunto altri 4 anni. Poi la direzionalità, il trarre profitto è tutta questione poi di tecnica e strategia. Però nel momento in cui noi analizziamo le statistiche e le serie ripetute sui tempi possiamo andare a ragionare su questa cosa. L'inizio di un nuovo ciclo quadriennale su Ethereum Bitcoin è il primo tassello importante per la alt season. È la, il cosiddetto lo start, la musicale, no? Quello che ci fa dire alt season attention please DEF CON 4 non 5 ma DEF CON 4. Ok? Allora detto così perché è importante analizzare questa cosa e questo ci pone l'ottica di avere magari un atteggiamento un po' più reattivo su alcune altcoin che tra l'altro qualcuno l'abbiamo già vista muoversi come URI per esempio nel weekend. Detto questo quindi ragazzi questo secondo me è un grafico veramente stra importante da andare a valutare ancora però non ha segnato un livello di massimo non è riuscita a superare a fare questo break oggi è un pochino debole rispetto a Bitcoin vedremo cosa succederà perché se non fa questo livello questo discorso non sta ancora in piedi quindi primo tassello superare questo livello del massimo secondo tassello superare il tempo 80-90 giorni al di sopra di questo livello di minimo ovviamente bisognerà già operare a favore di ETH e magari sguicciare qualche posizione sarebbe molto interessante se non fa questo tipo di discorso e da qui ritorna a scendere ahimè resta tutto come ci siamo detti ma aumenta stratosfericamente la probabilità di avere già un annuale in corso e a quel punto estremamente negativo quindi tutto rimandato di buoni 6 mesi va bene detto questo vi ricordo Academy ultime ore a disposizione per accedere alla nostra community potete stare insieme a noi fare tutto quello che facciamo noi vedere le mie strategie quello che pubblico quello che facciamo insieme tutte le analisi gestire i nostri patrimoni non vi aspettate trading di natura intraday così io non faccio questa roba non si guadagna in questi modi io cerco di snellire la volatilità dei mercati delle cripto indirizzando a quelle che sono operazioni consone e adeguate poi ci sono ovviamente anche tanti altri trader che fanno invece tante operazioni io le lascio stare queste cose perché sono convinto che si impara molto facendo questo tipo di discorsi e sono favorevoli a queste cose però ricordatevi che non siamo una community di copy trading assolutamente non è quello non diamo segnali di trading dovete essere formati partecipare siamo una community molto coesa e soprattutto io tendo spesso a ragionare su quello che faccio e a spiegare la parte psicologica che negli investimenti e nel trading veramente vi cambierà la vita va bene ragazzi tante 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 tanta superficialità in questo settore non solo nel settore cripto anzi scusatemi ma lo sarei dire molto di più nel settore classico c'è tanta superficialità quando si prendono statistiche e si buttano fesserie alla grande dicendo che basta investire nelle repliche passive eccetera non è così non è così semplice lo sarei dire io pure investo in quelle cose ragazzi ma va spiegato come dove quando quali sono i rischi veri che si vanno ad avere e non sono assolutamente quelli che spesso sentite su queste cose magari magari quando tiro su il corso sugli etf che non lo faccio a pagamento lo faccio su youtube già questo ve l'avevo promesso ne parliamo di queste cose perché è difficile veramente c'è tanto da dire tanta roba da dire e non basta un video youtube ragazzi e uscirebbero lezioni di ore e ore veramente ci vuole una cosa dedicata e sicuramente poi non è diciamo argomento consolo a un canale youtube vediamo cosa mi invento e cosa riesco a come riesco a spiegarvi queste cosette magari prendendo qualcosina di qui ciao raga buon inizio settimana a